L'8 dicembre torna all'appuntamento con la messa degli sportivi come sempre nella Pieve di Santa Maria. Sì, è nella tradizione dello sport aretino, per la coincidenza con l'Immacolata si fa la festa, diciamo così, una messa per lo sportivo. E nell'occasione quest'anno c'è un evento nuovo, lo facciamo nella Pieve, con Don Alvaro ormai è rientrato nelle nostre indicazioni privilegiate. E quest'anno con la coincidenza dell'8 ci sarà anche nell'occasione la presenza di un'associazione benemerita del CONI, che sono i veterani dello sport, che prevereranno alcuni atleti. Faccio parte dei veterani dello sport, quest'anno per la prima volta ho partecipato all'intratevero Arno ed è stata un'esperienza bellissima. Mi auguro che tanta gente l'anno prossimo parteciperà perché è veramente un attimo di socializzazione dove l'esport vince su tutto, lo sport con la S maiuscola. E' un'occasione importante per questa associazione per essere sempre più presente nel tessuto sportivo aretino. Anche quest'anno ci sarà questa premiazione importante e credo che vada ringraziato particolarmente il CONI, che ha consentito che questa premiazione avvenisse nell'ambito di una giornata così importante. Nel 8 dicembre le premiazioni, ma chi saranno i premianti di quest'anno? Allora l'8 dicembre alle 11, grazie all'assenso del nostro delegato provinciale CONI, professor Cerbai, ci saranno premiati Matteo Marconcini, medaglia d'argento mondiale in Ungheria. Sarà premiata Beatrice Fioravanti, è il terzo anno di campionessa italiana della FUNE, cioè due anni da juniores con la FUNE e un anno con la palla da senior. E poi ci sarà anche la premiazione alla Petrarca, la ginnastica Petrarca, nella persona del suo presidente, Paolo Pratesi, in quanto nel 140esimo anniversario della sua fondazione. Ci sarà la premiazione inoltre di un personaggio importante per Arezzo, Don Alvaro, il parroco di tutti gli aretini, che ci ha consentito addirittura la Chiesa per la premiazione e quindi un posto prestigioso, religioso, che si confà allo spirito dello sport aretino e allo spirito dello sport dei veterani.